Capitolo 27 Catatonia Imprecisato dello spazio, il pollice infilato nella bocca, il colletto e le spalle della camicia umidici. Sul collo e appena sotto il mento si vedevano vistose e chimosi. Le urla di Jack erano cessate, ma non le paure di Wendy. Strapata al sonno dalla voce del marito, che si era levata con la stridula prepotenza di un tempo, Wendy la ricordava così bene, lei credeva ancora di sognare, ma un'altra parte di lei sapeva che era sveglia e questo accresceva il suo terrore. Quasi quasi si aspettava di rompere nell'ufficio e di trovarlo ritto sul corpo accasciato di Danny, ubriaco, la mente confusa. Varcò l'uscio a precipizio e Jack era lì in piedi, che si massaggiava le tempie con le dita. Aveva il volto di un pallore spettrale, ai suoi piedi giaceva l'arice trasmittente in una distesa di vetro in frantumi. «Wendy!» chiese con voce malferma. «Wendy!» Lo stupore pareva aumentare e per un attimo Wendy scorse il suo vero volto, quello che di norma teneva celato con tanta cura, un volto di disperata infelicità, il volto di un animale preso in una trappola che non aveva la capacità di decifrare e di rendere innocua. Poi i muscoli presero a lavorare, a vibrare sotto la pelle. La bocca fu scossa da un tremito leggero. Il pomo d'adamo cominciò a muoversi su e giù. Lo stupore e la sorpresa di Wendy erano sopraffatti dallo shock. Jack stava per scoppiare a piangere. L'aveva già visto piangere, ma mai da quando aveva smesso di bere. E anche a quei tempi, mai a meno che non fosse davvero ubriaco, fradicio e pateticamente travolto da rimorsi. Jack era un uomo introverso, addirittura ermetico, e quando perdeva il controllo Wendy si spaventava sempre come se fosse la prima volta. Lui le si accostò, con le lacrime che ormai stavano per sgorgargli dalle palpebre, scuotendo il capo con un moto ritmico involontario, come in un vano tentativo di tamponare quella tempesta emotiva, e il petto gli si sollevò in un ansito convulso che si tradusse in un enorme, sconvolgente singhiozzo. I suoi piedi, infilati in un paio di pantofole, inciamparono nei rottami della radio, e andò a caderle quasi tra le braccia, facendola barcollare all'indietro sotto il suo peso. Le alitò in piena faccia, e lei non avvertì alcun sentore di alcol. Certo che no, lassù di alcol non ce n'era. «Cosa c'è che non va?» lo sostenne come meglio potè. «Jack, cosa succede?» Ma lì per lì, lui non seppe far altro che singhiozzare, aggrappandosi a lei, fin quasi a mozzarle il fiato, scuotendo la testa sulla sua spalla in quel gesto impotente, tremulo, di rifiuto. «Jack, che cosa c'è? Dimmi, che cosa c'è che non va? Dimmi, cos'è che non va?» Finalmente i singhiozzi accennarono a tramutarsi in parole, dapprima incoerenti, poi sempre più chiare e a mano a mano che il fiotto delle lacrime si esauriva. «Sogno, credo che sia stato un sogno, ma era così vero, così reale, io...» C'era mia madre che diceva che papà avrebbe parlato alla radio e io... Lui, lui mi diceva di... non so, mi urlava qualcosa e così ho spaccato la radio. «Per farlo tacere, per farlo tacere, è morto! Non voglio sognare di lui, no, no, nemmeno questo, è morto, mio Dio, Wendy, mio Dio, non ho mai avuto un incubo come questo, non voglio averne altri, Cristo, è stato orribile!» E il movimento ritmato del capo, avanti e indietro, prima rallentò e poi cessò del tutto. «Stavo sfogliando quelle vecchie carte, seduto su uno sgabello che ho sistemato là sotto, ricevute del latte, roba senza importanza e suppongo di essermi addormentato. È stato allora che ho cominciato a sognare. Devo aver avuto una crisi di sonnambulismo ed essere salito sin qui!» Si sforzò di emettere una tremula risatina contro il collo di Wendy. «Dov'è Danny, Jack?» «Non lo so, non era con te!» «Ma... non era da basso con te?» Si volse a guardare da sopra la spalla e il volto gli si contraste alla vista dell'espressione di Wendy. «Non mi permetterei mai di dimenticarlo, vero, Wendy?» «Jack, quando sarò sul letto di morte ti chinerai su di me per dirmi Ben ti sta, ti ricordi quella volta che hai rotto il braccio a Danny? Jack! Jack, cosa?» Le gridò in faccia, addirato. Poi scattò in piedi. «Vorresti forse negare che non lo stai pensando? Che gli ho fatto del male? Che gli ho già fatto del male una volta e potrei fargli del male un'altra volta? Voglio solo sapere dov'è tutto qui!» «Coraggio, urla con quanto fiato in gola, così tutto si sistemerà!» Wendy si volse e uscì dalla stanza. Lui la seguì con lo sguardo, raggelato per un istante. Poi seguì Wendy e la raggiunse accanto al banco della portineria. Le posò le mani sulle spalle e la costrinse a voltarsi. Il volto di lei aveva un'espressione ferma e tuttavia cauta. «Wendy, mi spiace! È stato il sogno! Sono sconvolto, mi perdoni!» «Ma certo!» Rispose lei senza mutare espressione. Le sue spalle irrigidite si sottrassero alle mani di Jack. Wendy si portò al centro del vestibolo e chiamò. «Ehi, dottore! Dove sei?» Silenzio. Wendy si avviò le doppie porte dell'atrio, ne aprì una e uscì sul viottolo che Jack aveva scavato tra la neve. Tornò a chiamare, col respiro che si condensava in una nuvoletta bianca. Quando rientrò, la sua espressione appariva già alterata dallo spavento. «Sei sicura che non stia dormendo in camera sua?» Disse Jack in tono naturale, dissimulando l'irritazione che provava per lei. «Te l'ho detto! Stava giocando da qualche parte mentre io lavoravo a maglia! L'ho sentito muoversi da basso!» «Ti sei addormentata!» «È questo che c'entra!» «Sì!» «Danny!» «Hai dato un'occhiata in camera sua quando sei scesa da basso poco fa!» «Io...» Si interruppe. Jack annui. «Credo proprio che tu non l'abbia fatto!» Imboccò le scale senza attenderla. Wendy lo seguì quasi di corsa, ma Jack faceva i gradini due alla volta. Gli finì quasi addosso quando si arrestò di scatto sul pianerottolo del primo piano. Era là, come se vi avesse messo radici. Lo sguardo rivolto verso l'alto. Gli occhi sbarrati. «Cosa?» Fece per dire Wendy. E seguì la direzione del suo sguardo. Danny era ancora là. Gli occhi vacui, assucchiarsi il pollice. I segni sulla gola erano chiaramente visibili alla luce delle fiaccole elettriche del corridoio. «Danny!» Urlò Wendy. Quel grido spezzò la paralisi di Jack. Insieme si precipitarono su per le scale per raggiungerlo. Wendy gli cade in ginocchio accanto e strinse il bambino fra le braccia. Danny la lasciò fare docile, ma non ricambiò l'abbraccio. Era come abbracciare un bastone imbottito. E il sapore dolciastro dell'orrore le inondò la bocca. «Danny, cos'è successo?» Chiese Jack. Tese la mano a sfiorare il gonfiore sul collo di Danny. «Chi ti ha fatto questo?» «Non toccarlo!» Sibilò Wendy. Serrò Danny tra le braccia, lo sollevò e si era allontanata raggiungendo il centro delle scale prima che Jack potesse far qualcosa di più che sollevarsi, confuso. «Come?» «Wendy, cosa diavolo stai pens...» «Non toccarlo!» «Se ti riprovi a mettergli le maie addosso ti ammazzo!» «Wendy!» «Bastardo!» Si girò e percorse a precipizio il resto delle scale fino al primo piano. Mentre correva la testa di Danny balonsolava molle su e giù. Teneva il pollice fermamente infilato in bocca. Gli occhi erano come vetri insaponati. Ai piedi delle scale, Wendy deviò a destra e Jack udì i suoi passi allontanarsi. La porta della camera da letto sbatté. Si udì scorrere il chiavistello. La chiave girò nella toppa. Un breve silenzio. Poi i bassi suoni attutiti dalla consolazione. Jack indugiò immobile, Dio sa per quanto tempo. Paralizzato da tutto ciò che era accaduto in quei pochi momenti. Il ricordo del sogno era ancora vivido in lui e proiettava su ogni cosa un'ombra vagamente irreale. Era come se avesse preso una dose molto blanda di mescalina che avesse davvero fatto del male a Danny come credeva Wendy? Aveva forse tentato di strangolare suo figlio su richiesta del padre morto? No, non avrebbe mai fatto del male a Danny. È caduto dalle scale, dottore. Non avrebbe mai fatto del male a Danny, ora. Come facevo a sapere che la bombola di insetticida era difettosa? In vita sua non era mai stato volutamente cattivo quando era sobrio. Tranne quando per poco non è ammazzato George Hatfield. No! Urlò nel buio. Si calò i pugni con violenza sulle gambe e ripetei quel gesto di collera ancora e ancora. Wendy sedeva nella soffice poltrona imbottita accanto alla finestra con Danny sulle ginocchia e lo stringeva a sé, canticchiando le antiche parole senza senso. Quelle che dopo non si ricordano mai, indipendentemente da come vadano a finire le cose. Danny le si era rannicchiato in grembo senza protestare né manifestare contentezza, come un doppione di se stesso e i suoi occhi non si spostarono neppure in direzione della porta quando Jack urlò No! da qualche parte nel corridoio. La confusione le si era placata nella mente, ma ora, dietro la confusione, scopriva qualcosa di peggio. Un senso di panico. Era stato Jack a farlo. Wendy non aveva alcun dubbio in merito. Per lei, il fatto che lui negasse non aveva alcun significato. Riteneva del tutto plausibile che Jack avesse tentato di strangolare Danny nel sonno, così come nel sonno aveva fracassato la ricetrasmittente. Che fosse una specie di esaurimento nervoso? Ma lei che mai avrebbe potuto fare? Non avrebbe potuto restarsene chiusa lì dentro per sempre. Avrebbero pur dovuto mangiare. C'era in realtà solo una domanda ed era posta con una voce mentale di estrema freddezza, di rigoroso pragmatismo. Era la voce della sua maternità, una voce fredda e spassionata, una volta che fosse indirizzata fuori dal circolo chiuso di madre e figlio in direzione di Jack. Era una voce che parlava di autoconservazione solo dopo la conservazione del figlio. E la domanda era Esattamente, fino a che punto Jack era pericoloso? Aveva negato di averlo fatto. Era rimasto inorridito dalla vista delle echimosi, della quieta e implacabile astrazione di Danny. Era stato lui a farlo. Un settore affatto autonomo di lui ne era pienamente responsabile. Il fatto che avesse compiuto il gesto mentre dormiva era seppur in una forma terribile e contorta incoraggiante. Non era possibile fidarsi di lui perché li portasse via di lì? Li portasse a valle lontano? Dopodiché... Ma Wendy non riusciva a scorgere nulla al di là del loro arrivo di lei e di Danny, sani e salvi all'ambulatorio del dottor Edmonds a Sidewinder. Non aveva necessità alcuna di vedere oltre. La crisi del momento era più che sufficiente a tenerle la mente occupata. Cantilenava, cullandosi Danny sul petto. Le sue dita sulle spalle del bambino avevano percepito l'umidore della maglietta. Ma non si erano curate di trasmettere l'informazione al cervello in termini più che fuggevoli. In caso contrario Wendy avrebbe potuto ricordare che le mani di Jack quando l'aveva abbracciata nell'ufficio e aveva singhiozzato contro il suo collo erano asciutte. Ciò avrebbe potuto concederle un attimo di respiro. Ma la sua mente era ancora puntata su altre cose. Occorreva prendere una decisione. Avvicinare Jack oppure no? Non che fosse una grave decisione in realtà. Non c'era nulla che lei potesse fare da sola. Neppure portare Danny giù in ufficio e chiamare aiuto via radio. Il bambino aveva subito un forte shock. Avrebbe dovuto essere allontanato al più presto prima che fosse vittima di un trauma permanente. E tuttavia esitava dibattendosi in cerca di un'alternativa. Non voleva rimettere Danny alla portata di Jack. Adesso era consapevole di aver preso una decisione sbagliata quando era andata contro i propri sentimenti e quelli di Danny e aveva permesso alla neve di imprigionarli lassù. Per il bene di Jack, già. Un'altra decisione sbagliata era stata quella di accantonare l'idea del divorzio. Ora era quasi paralizzata la prospettiva di poter incorrere in un altro errore. Un errore di cui si sarebbe pentita in ogni minuto di ogni giorno per il resto della sua vita. In tutto l'albergo non esisteva un'arma da fuoco. C'erano coltelli appesi a pannelli magnetici in cucina ma tra lei e coltelli c'era Jack. In quella sua lotta per decidere quale fosse la migliore cosa da fare per trovare un'alternativa non le venne nemmeno fatto di pensare all'amara ironia di quei pensieri. Un'ora prima dormiva fermamente convinta che le cose filassero a meraviglia e che quanto prima sarebbero andate anche meglio. Ora stava considerando l'eventualità di usare un coltello da macellaio contro il marito se solo avesse osato interferire nella sua vita e in quella del figlio. Alla fine si alzò in piedi con Danny in braccio le gambe le tremavano. Non c'era altra via avrebbe dovuto supporre che Jack da sveglio fosse un Jack sano di mente e che l'avrebbe aiutata a portare Danny a Sidewinder dal dottor Edmonds. E se Jack avesse tentato di far qualcosa di diverso dall'aiutarla che Dio aiutasse lui. Andò alla porta e la sbloccò spostandosi Danny contro la spalla l'aprì e uscì nel corridoio «Jack!» chiamò con voce concitata, nervosa ma non ottenne risposta. Con crescente trepidazione raggiunse lo scalone ma Jack non c'era e mentre se ne stava lì sul pianerottolo chiedendosi che cosa dovesse fare ora dal basso salì fino a lei un canto pieno, rabbioso amaramente satirico «Rotolami nel trifò, oh, oh, io! Rotolami, stendimi e fallo ancora!» Il suono della sua voce la spaventò ancora più di quanto l'avesse spaventata al silenzio e tuttavia non c'era alternativa cominciò a scendere le scale Grazie per la visione!